Per le interviste politiche in vista del voto del 24 e 25 febbraio, questa sera diamo spazio all'Union Val d'Ottene progressista e sentiamo le ragioni della candidatura di Laurent Viren. Ci presentiamo soli, senza compromessi, senza alleati scomodi o da tenere nascosti, senza alleanze preventive perché soprattutto in questo momento di attacchi all'autonomia che provengono un po' da tutte le direzioni, noi crediamo di ritenerci liberi e soprattutto di portare a Roma gli interessi della Valle d'Aosta e dei Valdostani. Quindi non crediamo che aumentare le file di partiti o schieramenti nazionali sia necessario in questo momento. Quindi noi ci presentiamo con le nostre idee, con le nostre istanze che sono sintetizzate per ora in punti che diventeranno un programma. Ci collocheremo nel gruppo misto con i nostri colleghi e amici del Trentino, del Sud Tirol, delle altre minoranze linguistiche per difendere gli interessi delle minoranze linguistiche, dei territori alpini, di montagne e soprattutto non appoggeremo né Monti né Berlusconi che sono stati i nemici dell'autonomia e soprattutto in questo momento di neocentralismo noi vogliamo soprattutto porre al centro la Valle d'Aosta. Ecco, lei ha accennato al programma, allora diciamo alcuni contenuti del programma. Sì, in primis saremo a Roma per difendere l'autonomia con il principio dell'intesa sulle modifiche dello statuto ma anche sulla prerogativa di avere un'autonomia finanziaria senza la quale la Valle d'Aosta e la sua autonomia vengono svuotate. Ma porteremo anche il tema della montagna, della cultura, dei giovani, dell'innovazione, il tema gravoso del lavoro che è un problema di attualità che segna questa nostra società ma anche il tema dell'accessibilità. Abbiamo una valle inaccessibile, abbiamo l'autostrada più cara d'Italia, la ferrovia tra le più disastrate del nostro paese. Rendere la valle accessibile significa anche e soprattutto creare quella Valle d'Aosta di sviluppo turistico che noi vogliamo. Ma noi saranno ossia a Roma per difendere l'interesse culturelle e linguistiche della Valle d'Aosta, nostra identità, un'identità in senso attuale e moderne, uverta sull'Europa, sullo mondo ma anche un racconto profondamente liato alla nostra storia, alla nostra cultura e alla nostra tradizione. La cosa che vi domandiamo di noi oggi è perché a Roma noi vogliamo difendere le diretti e gli interessi della Valle d'Aosta e del Valle d'Aosta, le diretti e le diretti del popolo.